oh santo ce l'ho benedetto i ricordi no no però scusate abbassato oddio regà regà sto giocando a meddolo a fondo raimond minchia gioco che giocavo nel 2013 no vabbè regà questa massa è insensibile no vabbè regà mi sento male guarda come cazzo si giocava mica la sensibilità 2 all'ora guarda oh regà molti di voi probabilmente in questo gioco diranno ma che schifo voi non potete cazzo oddio oddio quanto cazzo è strano oddio quanto cazzo è strano adesso sto giocando in multiplayer che mai giocato tempo fa perché praticamente dire multi guarda non ci si poteva oddio come cazzo erano i giochi dei tempi sono emozionato perché comunque gioco che praticamente mi ha riempito i pomeriggi tanto 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 tempo fa eh mamma mia ragazzi non so oddio oh no vabbè i tassi e robe assurde tassi tutti sminchiati cioè sminchiati tutti a come erano i vecchi tempi non sto trovando un cazzo di nessuno oddio l'ho visto oddio la sensibilità guarda come cazzo era fatto raga lo so che starete partita oddio raga mamma mia che cazzo è i movimenti sono una cosa sono una cosa assurda i movimenti scomodissimi bravo oh dio non riesco oh 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 ho fatto la kill non dare neanche allora raga aspetta non devi che si ricarica con A oh mannaggia mannaggia il cazzo mannaggia raga non fate mai no raga solo oh oddio mi sto sentendo mamma mia ragazzi che cazzo sto giocando minchia non l'ho neanche visto eh vabbò lo spawn è veramente strafisso non è morto ah si che va raga tipo mamma mia ah è vero che a destra c'è il livello dell'arma oddio eh vabbò c'è minchia è vero che dovevi potenziare anche le armi mamma mia qua c'è più roba in sto gioco che il gioco è nostro scherzando no c'era già parecchia roba da fare mamma mia ragazzi comunque serve ma non è io diremo allora sensibilità ragazzi stra scovola comunque si parla di un gioco uscito tanti tanti anni fa ragazzi non riesco ole a colpire qui ci sono anche i comandi in ritardo raga mamma mia non si possa credere veramente ok così si tirava le patiche no così si mannaggia al cazzo riesci oh mi merda oh 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 non l'ho ucciso no no non dico che io ho fatto cioè ho fatto il marco mannaggia al cazzo mannaggia oddio raga è vero che qua ah ecco perchè io cliccavo qua proprio bisogna tenere premuto ma di brutto proprio ma si salta si salta con Y oddio ci sono parole si salta con Y no vabbè raga 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 ole piano piano sto cercando di acquistare i comandi comunque ci sono tre gradi che delle armi che c'è a destra e io voglio cambiare classe l'antica perchè il cicchino fa meno danno oh praticamente vedete quelle stanghette là e sono praticamente ok il livello delle armi che piano piano sale in base alle uccisioni mamma mia signori questi questi sono azioni da pro player ah è vero che ci sono le quattro vite che manco le avevo viste ragazzi mamma mia minchia vero che andava vita oddio oddio quanto scomodo poi qua ci si buttava col paracadute mamma raga bella ma raga dozi sei proprio un figlio di putt ragazzi vi consiglio guarda se non l'avete mai giocato vabbè adesso per i nostalgici di questa serie è ovvio che se lo vi scaricheranno di sicuro un consiglio scaricatevelo perchè ragazzi veramente anche se giocarlo ora capisco che non abbia molto senso per il fatto che vabbè ah che grafica perchè ragazzi questi sono giochi che hanno fatto la storia cioè non è che sono giochi che devi guardarci la grafica questi sono giochi usciti anni e anni or sono cioè e ragazzi comunque per me è una grandissima emozione giocare a un gioco del genere probabilmente a molti di voi non gli frega niente l'ho visto l'ho visto in ritardo e comunque ragazzi mamma niente da dire anche sarà sarà invecchiato tutto quello che mi dite tra me rimane comunque un giocone guarda veramente eh mamma mia quanto non vedo ora di rifarmi la campagna lo vorrò anche platinare cioè io lo devo per forza mamma mia lo devo per forza platinare cioè ragazzi non si può non platinare un gioco del genere mamma mia mamma mia oddio oddio l'ho ucciso mamma mia signori devo provare un quickie dai che la mamma mia eh se ci pio la mano è la fine sono curioso di sapere veramente la difficoltà della campagna che ovviamente non me la ricordo dovrò finirla nelle difficoltà più alte che quando ero bambino non ci riuscivo perché ero scarso no non ci credo no 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 e e niente lo vorrò platinare ragazzi probabilmente forse qualcosa la registrerò adesso bisogna vedere comunque non so quanto realmente la gente possa interessare questo videogioco che pro signore scusate l'ho concentrato e niente non so appunto quanto di voi possa interessare però ragazzi per me questo gioco è storia l'ho ucciso l'ho ucciso eeeh niente addio no ho sbagliato lo volevo picchiare mannaggia la miseria che poi io mi ricordavo questo gioco per me era stra difficile puoi calcolare che i giochi di un tempo erano molto più difficili di quelli di adesso dipende da quali giochi di adesso si sta parlando però erano veramente molto molto difficili che bastardo e poi stavo guardando con la destra perché pensavo che quello io non si affacciasse più invece mi ha fregato vabbè eeeh niente ragazzi mamma mia che emozione comunque ooooh oddio no non è short non è short mannaggia il cazzo eeeh niente ragazzi non so neanche quanto duri una partita non so quanto si arrivi se si se è per il tempo mi sa che stiamo anche perdendo eh di brutto di brutto no vabbè di 3 non stiamo perdendo oh oh cojone sono io mongolo kill è tutto scema non capisci niente non capisci niente mamma gli avevo fatto un knock gli avevo fatto un quick shot gli avevo fatto mamma raga mi pivo un attimo voglio provare l'MP40 mamma mia l'MP40 c'era dappertutto c'era qualsiasi mi fai prenderla in uno gara ma mannaggia sai che il progetto che mi senti c'è la rigenerazione grazie mille oh eccola mamma io la portavo sempre quest'arma più del Thompson una volta guarda non so se abbiamo solo la mira peggio io o lui alleluia no non volevo l'M1 non volevo l'M1 mamma mia però che potenza mi sembra che puoi avere più ok si voglio mamma mia signori l'M1 galan appunto come dovrebbe essere non puoi ovviamente ricaricare devi finire il caricatore caricatore e mi scordo sempre che qua non ci si rigenera la vita bisogna andare a pigliarla e niente mi scordo sempre ovviamente niente ragazzi comunque vedrò come andrà questo video se andrà bene se volete farò qualche video mentre lo sto platinando soprattutto negli obiettivi nati un po' più complicati se volete o se no amen e niente ragazzi boh io vi consiglio di discaricarlo perché secondo me è un gioco che bisogna secondo me avere nel catalogo di giochi giocati nella propria esistenza ringrazio ovviamente Microsoft per il suo lavoro di retrocompatibilità che mi ha permesso appunto di giocare a questo titolo che non giocavo da ormai decenni or sono nooo non ci credo guarda qua mi divertirò perché voglio ci voglio portare Dan e caccia lo voglio sentire su sto gioco non vedo l'ora dopo finito sto video mi andrò a registrare cioè andrò a registrare andrò a farmi la campagna perché devo andare a giocarla a difficoltà più elevata possibile perché voglio vedere la sua reale difficoltà eeeh nell'angolo che non c'è nessuno voglio vederla appunto nella sua massima difficoltà e se è infattibile oppure no cazzo fa sto coglione che cazzo oh si papamongolo annaccia ucaz eeeh e niente questa è anche una partita classificata e c'è 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 classificata ragazzi non so neanche su sto gioco cosa voglio in realtà intendere come classificata olè per cui boh chissà cosa intenda come difficoltà cioè come classificata scusate che cazzo mi ha preso uuuuh abbiamo pro sniper allora hitbox grazie ok c'è un alleato lì penso che l'abbia ucciso è arrivato il mongolo giusto giusto in tempo e niente ragazzi io direi che per questo episodio sia tutto tanto appunto perderò di sicuro ragazzi mi raccomando lasciate un like un commento iscrivetevi al canale ditemi voi se volete vedere altri video noi ci vediamo domani con i prossimi video bella rega saluta mongoloide alexi